Lo puoi spingere anche tu Giovanni Ho fatto una kill, ho fatto una kill E Giovanni, niente Lo voglio mai, io ne ho ammazza tu Perché non mi ha dato niente? Te l'ha rubato te Ecco, un nemico No, l'ho uscito Giovanni Di caricature pesanti Andiamo al mercato Veramente non le volete ste cose Raga, che cacchio è quel coso? Ma che di al mercato? Bro, 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 che è quella roba? Qualcosa? Segnala, se non mi segnali Da quando? Da quando è qui? Ma è possibile Tra quella è la skill di octane Eh, l'ho pensato anch'io Ma non è uscito Tra è uscito octane Se sta quella vuol dire che è uscito pure qualcuno Anch'era Quello è il pezzo di octane Ma sei sicuro che non l'abbiano messo apposta per il mercato No, 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 no Ma ce n'è un'altra qui Ce n'è un'altra qui Bra, eh, vuol dire che è octane Ci sono più di un octane Stanno fightando qua Il ragazzo l'avevi spiegato? Io non sto capendo né octane Chi è? Il personaggio nuovo No, mi stanno girando i coglioni Come non male Vieni qua, vieni qua Venite qua, raga Venite dove sto io Vieni qua